Ma noi abbiamo sempre detto che bisogna fare delle scelte coraggiose, Rimini è stata colpita dalla crisi, quando una casa è colpita dal terremoto ci sono le crepe, cadono gli infissi, però se non rifai le fondamenta non vai da nessuna parte. Per questo abbiamo deciso in questi anni, questi 3-4 anni che siamo stati qui, di fare delle scelte coraggiose. Le fogne, 168 milioni, stop al cemento, i grandi motori culturali, partirà il parco del mare. L'altro fondamento si chiama viabilità. In tutte le classifiche dei problemi il traffico, la mobilità era ed è un problema forte a Rimini e noi abbiamo preso il toro per le corna. La statale 16 verrà nell'arco del 2016 completamente fluidificata. Abbiamo realizzato lo sfondamento di via Tonale, il grande svincolo rotatorio di Covignano, di Grotta Rossa e finalmente entro il primavera 2016 partirà la rotatoria statale 16 adriatica con la San Marino e statale 16 con la Montescudo e Coriano. Se fosse di peso solo dal comune di Rimini avremmo già fatto, lo dico perché i cantieri parlano a Rimini. Lì c'era come dire una stratificazione di enti, l'ANAS perché è una strada statale, società autostrade, ci sono procedure di affidamento dei lavori, bisogna espropriare i terreni. Il messaggio è che finalmente anche le due grandi rotatorie che consentiranno di avere una statale fluidificata da nord da Torre Pedrera a Riccione, quindi le due grandi rotatorie verranno realizzate. Prima della San Marino e della Montescudo e Coriano ci sarà un grande svincolo rotatorio dei Padulli che consentirà a tutto l'abitato dei Padulli e a chi viene giù dalla Marecchese di entrare nella città da una grande rotonda che entra in via Aldomoro, altra grande rotonda, rotonda caduti di marzabotte e si entrerà nella città. Tre grandi interventi che io non so se ci avrei messo la firma ma partiranno appunto nel 2016. Un altro, come dire, bisogna anche rispondere e dire ci sono dei problemi, però siamo molto orgogliosi di dire Santa Giustina. Partono i lavori per la circonvalazione di Santa Giustina, parte il primo stralcio dopo il cimitero, nei pressi del cimitero, dopo il cavalcavia d'autostrada, lo svincolo rotatorio per consentire l'accesso ai camion, la bretella, al depuratore, al biodigestore, eccetera, ai servizi e quella rotonda, questa prima bretella, sarà anche il primo stralcio della circonvalazione di Santa Giustina. Anche qui un impegno preso, un impegno onorato. Insieme a questi interventi ci sarà la messa in sicurezza anche degli assi di penetrazione che entrano nella città, quindi da via Covignano, da via Marechiese, basta macchine in doppia fila, ciclabili, marciapiedi, una careggiata sulla Marechiese. Tanti interventi diffusi, compreso la grande rotatoria in via Flaminia Conca. Quindi tu non troverai più i semafori sulla tale di San Marino, un sottopasso, verrai giù verso la città, via della Repubblica, con via Flaminia Conca, un altro svincolo rotatorio. Una città che sta cambiando nella mobilità. Come sapete a marzo faremo anche la rotatoria tra via Tripio e via Roma, c'è la talpa che scava le fogne, finiti i lavori, anche lì si fluidificherà e poi ci sarà il passaggio sul ponte dal Parco Cervi sulla via Roma. Rimini cambia e cambia nelle fondamente, nelle cose di cui ha bisogno. Ovviamente noi ci siamo abituati in questo tempo di cambiamento non dire parole, ma a dire solo le cose che si possono fare. Tutto finanziato, ci sono i progetti esecutivi, la circonvaluazione di Santa Giustina, il Comune ha messo circa 10 milioni di euro nei bilanci del Comune, ci sono i progetti esecutivi, quindi abbiamo dato l'incarico, questa è la notizia, al nostro dirigente di avviare le fasi di gara per la realizzazione della rotonda dopo il cimitero della prima bretella verso il depuratore. Santa Giustina 10 milioni. La rotatoria San Marino-Montescudo-Coriano, le due rotatorie, siamo nell'ordine di una cifra tra le opere integrative che Società Autostrade deve dare per aver realizzato la terza corsia, di 23 milioni, una parte di queste saranno circa una metà dedicate appunto a questi due grandi svincoli rotatori. La grande rotatoria invece dei padulli che consenterà anche di diluire il traffico sulla Mare Chiese sono due stralci operativi intorno ai 5 milioni di euro. Poi ci sono gli interventi diffusi, ad esempio la messa in sicurezza della Mare Chiese più o meno da il Cavalcavia fino a Piazza Valturio con le ciclabili ai marciapiedi, siamo nell'ordine di interventi di 400-500 mila euro e il rifacimento anche di tutti gli assi dei viali delle marine, da Viserba a Bella Riva, consentono al bilancio del Consiglio del Comune di Rimini di finanziarli tutti. Quindi quello che diciamo noi facciamo tempi certi, progetti esecutivi e risorse.